Eccoci qua, allora, allora, buongiorno a tutti, se siete un po' di casino è che oggi mio babbo sta facendo le prove, quindi usate per il casino. Allora, innanzitutto ci vengo a ringraziare Massimo e Leonardo De Nicola per gli auguri fatti a mio nonno tramite questo portale, che è anche il portale dove io lavoro, insomma, lavoro è un paradone grosso, il giornalista è un piacere, è un piacere, e soprattutto il giornalista seguendo la squadra del tuo paese. Intanto sto guardando il torneo di Vareggio, finale di Genova-Palma, no, la semifinale a Senatola di Genova. Ma veniamo a noi, veniamo a noi, veniamo a noi. Un altro pareggio che, allora, facciamo un po' di chiarezza perché ho sentito un po' di scontentezza ieri dopo il pareggio. Sicuramente la scontentezza ci sta perché abbiamo fatto un'altra figuretta in un campo dove negli ultimi due mesi è la terra di conquista per tanti, ok? Il problema è che con questo punto, per tutti quei criticoni, e questo lo dico, per tutti quei criticoni, che con questo punto di ieri, manca veramente poco alla salvezza. Cioè, se per domenica vai in casa con la lunghese e vinci, è fatta al mio modo di vedere anche matematicamente. Quindi non riesco a capire assolutamente alcuni tifosi che vedono il pareggio di ieri con il bicchiere tutto vuoto. Ovviamente anche io volevo vincere ieri perché, insomma, la partita era abbordabile alla cortata. Però un pareggio non è che mi fa schifo, sinceramente. Anche perché vi ripreso, a forza di fare punti, punti, un punto, un punto, un punto, il punto ci avvicina al nostro obiettivo. Che era quello che abbiamo tutti filmato a fine anno. Poi, a fine affonato, faremo un po' il punto, la situazione, e vi dirò la mia su tutto. Perché anche io mi sono fatto un'idea generale, però dirò la cosa è fatta a fine affonato. Angolo Fuzzola. Qui c'è veramente da godere, ma da godere tanto. Da godere tanto perché anche sabato in casa, oltre alla propria, abbiamo fatto una partita veramente, veramente assurda a livello di intensità. Ora c'è un'altra sosta, l'ultima sosta, perché hanno veramente tolto le scatole con quelle soste. E poi c'è il big match a Santa Casa Bolognese, che va vinto in tutte le maniere. Perché se vinciamo il Santa Casa al 90%, siamo dentro al nostro sogno playoff. Quindi, sabato di riposo, per la Fuzzola. Però domenica, ci si vede tutto allo stadio, perché c'è la Sella Lunghese. E domenica, io la voglio chiudere, in tutte le maniere. La voglio chiudere, perché non mi voglio trovare a farle un altro punto e a giocarmela nelle partite successive. Io la voglio chiudere domenica. Ciao a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.